buongiorno ragazzi quel video è andato male però mo faccio un video si è serissimo questo non ci interessa schifo riconciuto a capo ecco benvenuti la mamma non ha mai visto che qua andava la cosa mettete tanto i pollici in su perché questo gioco lo farò per mille volte capito e non ho capito se vuoi il mio teatro non l'ho guarda la poppa idiota ok qui muo dentro non si può te per ora non blu verde rosa verde rosa giallo rosso capito verde rosa giallo rosso dai coperta una cosa sassevolele pare nooo i so i i i i i i i questo è concentrato questo qua è giocato la caccia insegura la prima campagna che ha fatto questo gioco brutissimo e dove cacchio sto andando guardate ma come scompara avete visto? si scompara non l'avevo mai notato quando ci andiamo vicino ma alcune volte qua c'è che così perché una volta io sono caduto nel vuoto se l'avete già scaricato su poppy playtime che ora vedrete nella fine che poi ci sarà il capitolo 2 che c'è Mami Longlands che ci inseguirà sarà molto brutta che schifo che schifo sembra un ragno schifoso è l'ultimo ma che cacchio è? vabbè se non li ho messi tutti sono infoso sono infoso oltre io la cassetta so dov'è però non mi interessa ma vedrete oggi mi mancano il rosso ecco l'è dove eri porca cugretto l'acqua ah mannaggia no ti non c'è più dammi la mano rossa oh No, no, no E poi c'è pure Che fa vedere quando tu vuoi però No, qua ci seguirà oggi Però non ora Non ora Perché Perché mi rompo le caviglie Perché yes Se vi rompete le caviglie Scrivete Che Voi aprire Mamma io voglio fare vedere una cosa Fui scoperto Da solo Però non la pot Dai te la faccio vedere La faccio vedere Guarda che roba c'è Guarda che roba c'è Che roba c'è Così scoprono le cose nel capitolo 3 Nel capitolo 2 Ci stiamo preparando nel capitolo 1 Nel capitolo 2 E' volata una scala Quella non si è doveva prenderla Guarda Che roba c'è Che roba c'è a un giù dai dai si da potete fare bruno con bruno vedo che non era cozi vado miro un polacchia ma io sono già alla fabbrica è la McFan ma tu vieni, prendi la sedia e metti qua ho sei anni, mi chiamo Ivan che non fa così tanta paura, dai fa più paura alla Granny guarda, questo fa come schifo perché ti guardo guarda, guarda non mi metto qua ecco, ma si è venuto per il gioco ecco no, ma questo mi ha bisogno no, perché quando va al gioco altro fa no, tre, tre avi 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 Adi baghi Adi baghi Adi 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 Dove sta Qua Ah perchè ancora si apre Ah ok Si un altro po' più avanti Penso ma penso debba essere così Però più Più orizzontale più dritto Adai Non so se la mia madre le ha detto Gran pupacca Ti devi gira Eh ok Ok lascialo così Ok lascialo così Capiamo fatta? Eh lo vediamo se funziona Lo sai quando finisce il giocattolo qua Eh La fabbrica si Si abbassa un po' con il silenzio Anche Non si sembra più il casino Ah Quel casino assurdo Sì Sì Convinta che ci va Meno male Proprio fai attenzione che non Attenzione Che non inciampi più la scatola Quando poi torno indietro Se no Si sposta Anche la partita Ecco Provo a caccia SIIIIII NO Come no? E' tornato giù Che caccia però era volato però l'hai fatto volare bravo ah voglio arrivare alla camera bravo no no io ho paura io ho paura ma che devo fare vai giù ah ma è chiusa la porta aiuto aiuto dai fa vedere la ecco Pomo devi andare a destra qui 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 destra vai subito aiuto sinistra oh cavolo giù gu Stadt corri porca miseriaccia Dove sto? Ma non è che non faceva tanta paura No 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 Sono solo i condotti a far paura Perché se no anche c'è un bel sorriso Sì 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 Oh mio Dio Oh mio Dio Oh mio Dio Ok vado io Sì ce l'ha fatto Dove devo andare di qua Ho sbagliato ho sbagliato Dove devo andare Oh cacchio ho sbagliato Ma devi andare avanti dove ti ho chiuso qua Non ho sbagliato Non ci posso restare due mani Sì Oh ce l'abbiamo fatta Sì sì Vieni qua Yeah Ciao Aghi Va a far un bagno Sì Ciao Aghi Va a far un bagno C'è pure il peluccio di Aghi È di chissi Ma che devi fare? Quante cose ci stanno Quando è grande questo posto Quando possiamo mettere pure Pop Playtime 2 Ancora più grande Però questa parte è gigantesca della fabbrica Guarda quanto è gigante E poi là credo che Aghi Già ha fatto una cosa Guarda che è già rotto È Aghi Dai andiamo a trovare Pop Però Queste cose fanno proprio ansia Guarda Che schifo No sta troppo lontano mi sembra No perché lui fa un salto Credo che vuole E c'è scritto Torno indietro Io seguo gli occhi Però quello del condotto no Perché c'è Aghi dietro Vabbò Voglio andare Guarda che bella Bella stanzetta tutta fiorata Con le pavole Si va a chiudere Non si chiude Quella è un termine Non si può rubare una? Che carina Faccio sentire la musica E qua c'è il capitolo Due c'è Due c'è Due c'è Non è una cosa Che la toglie Questa la toglie Si Quella sua forte No 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 C'è Un po' di rosse Troppo Pina Una notte Dormi Beh Dove te ne vai Per la fressa Porta Sta teca Eeeh Pluffe Vedrà che c'è ancora Il pallino Fa più effetto Però da lontano Hai aperto il mio case Ancora hai aperto la mia teca La mia casa Finito così ragazzi Lei sarà nel capitolo 2 Ci saranno Ommi Ci vediamo Ciao Ciao